Allora, importante vittoria, ottava stagionale, quattordicesimo gol per Giulia Aiello, Rosa Perna però iniziamo, oggi è stata veramente dura ma serviva questa partita per far vedere il valore di questa squadra? Sicuramente sì, abbiamo un grande valore, un grande gruppo, io sono onorata di farne parte e spero che insieme a loro riusciremo a vincere il campionato. Ecco, voi vi aspettavate di trovare un avversario che vi avrebbe fatto giocare sicuramente? Comunque la partita era molto tosta, ci siamo allenate bene, duramente, al freddo e questo è il più bel regalo di Natale che potevamo aspettarsi. Bene, allora da Rosa Perna che tra l'altro la lasciamo andare anche perché c'è veramente un freddo gelido. Giulia, allora la possibilità di colpire per il 2 a 0, hai fallito quel tiro libero però hai lasciato un conto aperto con il portiere avversario, ci hai provato da tutte le posizioni ma da quella più impossibile, pensavi che andasse a gonfiare la rete? No, assolutamente, anzi pensavo che andava buttata pure con l'occasione, il portiere loro è stato bravissimo, ha praticamente parato tutto, è stato tutto merito suo, però ci voleva perché ce lo aspettavamo e ci meritavamo questa vittoria e c'è il cuore fermo. E beh, hai il cuore fermo anche perché proprio prima della partita sentivi tantissimo l'emozione forte anche perché avevi bisogno di un tifoso particolare che però ti è stato sempre vicino nonostante che oggi non è potuto stare presente per impegni di lavoro. Lo salutiamo, salutiamo il mio papà e niente, va bene così, grazie a tutti e buone feste.